bentornati ragazzi io sono leo come vedete siamo tornati per l'ennesima volta su crash però come vi ho abituato qui sul canale ogni tanto porto una serie che non c'entra nulla comunque che ho abbandonato mesi prima così la riporto in vita e continuo come se come se nulla fosse voi giustamente vi dimenticate tutto però i video stanno qua e potete rivedere quando volete sempre se volete e ciccia questa camminata mi mancava ma partiamo subito 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 con questi livelli nuovi nuovi e diversi non mi ricordo nulla ecco le mele le mele qua sono sacre sacre proprio perché gioco con lo stick forse per questo che va male no forse è meglio lo stick non lo so non me li trovo coi comandi vai mo allora era sì così due vite allora la cosa importante riprende subito coi comandi perché se no va a fini male e basta devo evita devo evita tutto qua devo evita quindi devo fa un po così un po così un po no zero vite quindi mi deve andare bene mo eh mi deve andare bene e basta qua provo a passare un po alla come come ho fatto prima sto ancora zero vite e dai boeing e proviamo ok due vite siamo ancora in gioco siamo ancora in gioco non voglio riprovare il livello no la fine vicina la pianta la evitiamo via vabbè cristallo no dovevo andato in gioco vabbè se muoio ripasso di là tanto qua che non muoio appunto tranquilli tutti buoni casse bastarda della pianta che ho preso tutte le casse non credo nooo me ne mancava una dove è andata pure troppo bene perché non ho dovuto riprovare il livello piglia sto cristallo va a posto ma posso andare in acqua attento devo sta attento si attentissimo corri corri perfetto no oh ma chi è oh amato pastidioso ammazza buono 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 allora tu te ne vai il barile non lo tocco manco quell'altro cerco di pigliasemi no qua ci stanno le sardine scossose però qua nooo questo passa qua ok ma si apre la porta buono qua devo saltare basta salta appena finisce parto ok niente dovevo fare solo questo invece no no questi c'hanno gli spuntoni ce muoio ma l'importante è girerla devo girerla no ah si vite 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 una scelta difficile vado alle melette va andando per piglio le melette però vado di qua questi stanno ovunque questo no bastardo guarda 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 si diverte proprio la fine la fine la fine potrebbe essere un problema se non ho preso il cristallo e mi sa che ci devo riprovare mi sa che dovevo andare dalla parte delle melette perché gli servono al cortex il balordo che ci tiene al gabbio eeeh vai 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 mo vai mo sfonna tutto ah pure queste te casse possiamo rompere vai 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 malevate deficiente eccolo il cristallo no 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 bene 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 obiettivo raggiunto crash grazie al cielo sono entrata nel computer di cortex e ho trovato i piani per un vortice cortex ancora più potente e una stazione spaziale dall'aria sospetta non ne sono certa ma temo che voglia bella bella sta sta mappe uh ho capito quale è vai 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 salta salta vai corri corri orso allora devo fa devo fa piano eh devo fa piano devo fa piano ok buono sono divertentissimi sti livelli comunque il problema è questo devo saltare prima? eh si devo saltare prima vedete visto la faccia di crash quando quando decide di di saltare sull'orso allora qua faccio così devo stare attentissimo nooo e dai ma guarda tu l'unico livello do posso provare a prendere tutte quante le casse no tanto vabbè che vuoi nooo ho preso vabbè ho preso pure il checkpoint chi è? chi è? chi è? chi è? chi so? vabbè addio buono lo sapevo salta no ecco mi chiedevo cara tnt vabbè le casse proprio ormai sono andate bravi loro ma chi sono quelli? perché stanno a scaricare la merce qua? allora abbassate sta roba forza ok per me bruciate bene bruciate bene oh d'ha messo cristallo guarda che stronzi checkpoint 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 bastardi mi hanno fatto la finta corri orso corri quindi questi saltano qua ci passo sotto qua la foca che poi non è una foca oh no orso and'allestra allora eh questi? eh mi chiedevo che abbassavano subito vabbè ricorri orso quindi andiamo avanti ok dai avvite sto messo ancora bene scivola orso scivola ok dai 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 questo eh dai faccio lo stesso errore sei volte questo gioco fa parte dei giochi che porto quando finisco le serie perché infatti ragazzi è appena finita la serie di metro almeno il 2033 uh eh sono quelle due castle là che non ho rotto vabbè il cristallo ce l'abbiamo soddisfatto perfetto questi così sono strani dei livelli allora qua cade qualcosa questo cade sicuro il sorcio il vero sorcio qua posso andare da quante parti scusate ma laggiù che ci stanno i pokemon tu uomo scemo scemo tu dammi gomma gomma che me fai me mozzichi me mozzichi che fai non fa niente vabbè me guarda sorcio levati sorcio questi che sono levati qua no qua cade tutto qua uh cado pure io ah allora vedi tu non guardi però buono meno male che cos'era quel rumore raggiù c'è sta il super scimmione oi 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 questo la morte proprio andiamo a voglio affrontare lo scimmione che ho visto cade qua oddio ok quindi mi metto qua perfetto aspetto barordo Le posso colpì? Ha ha È contento proprio Qua è pericoloso eh Qua è pericoloso Qua è pericoloso Qua è pericolosissimo Bastardo Ecco lo sapevo io che arrivava a sto momento Corri Qua che c'è stava la scimmia maledetta No qua non sta buono Tu levate La scimmia sta arrabbiata Guarda guarda La scimmia sta incazzata nera Ok Buono Madonna l'ho presa La metà praticamente Ho preso solo la gemma Non l'ho preso il cristallo Che te festeggi lo dobbiamo rifà Che te festeggi Dove stiamo? Quindi passando di qua Puglio Della pigliavo la gemma Invece di qua Prendo il cristallo Infatti Levete Per chi mi vedrà giocare a questo gioco E se la prenderà Perché dico Oddio questo Sta a giocare L'ha giocato malissimo Il livello brutto Non ha preso nulla Esatto Esatto Allora stiamo all'ultimo livello Prima del boss Che dovrebbe comparire Qua davanti Se la camera è impostata così Un motivo c'è sta Perché? Oddio 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 Ma aspettavo la palla Ma non è la palla È il bobbo Corri rush Corri rush Niente ho pegato già la prima mina Cazzo È bellissimo È bellissimo È rifatto benissimo Io me lo ricordavo Della playstation 1 Ma non mi aspettavo Di trovarlo già qua Però giustamente Stiamo in mezzo alla neve Mi sembra un po' più lento Della Palla Non mi vorrei sbagliare Scappa Lucertola Niente Lucertola è andata Lui è stronzo Perché Questo Ci sta un altro Sei dal cambio Sei dal cambio No Niente Allora Quando sei dal cambio È male C'ho pochissime vite Quindi Devo fare attenzione Il problema è che Qua qualche volta Devi Ehi Qua qualche volta Devi morire Per capire Com'è il livello E tanto Ce ne sta un altro Qua sopra Sicuro Dove stai bestio Che non c'è Oddio Ok buono Ma aspettavo Di morire invece Mi accontento Mi accontento De una vita E tante mere Corrotto Ci risiamo Sta sopra È pronto Se parte Sono partito No Malissimo Sono partito Sguencio Qua va bene così Me lo ricordavo Molto più velo E dai Pure le lucertole Me lo ricordavo Molto più veloce Comunque lui Giù Niente quello Se magna tutto La corrente Ne fa niente Ok Buono Non è ancora finito Ammazza Bello Bello Così bello Con l'orsacchiottino piccolo Vabbè però così Scusa me Mi stai a sfruttare Figlio Sta incazzato Sì Ok Ammazza Sei proprio tuffato L'orso Buono 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 Soddisfa L'ho preso il cristallo C'ho gli incubi Sui cristalli Calmo Calmo Crash Calmo Siamo arrivati Mio caro Sei Indirittura D'arrivo Ma avrai notato Che le cose Si mettono male Gli ultimi cristalli Saranno i più difficili Da raccogliere E i miei E i nostri nemici Cercheranno di fermarti Ti contatterò Quando avrai completato La prossima stanza Del teletrasporto Beh effettivamente è vero Perché i cristalli Non è che sono più difficili Da prendere Li stanno mettendo In punti bastardi Del livello Quindi se tu prendi Una via Piuttosto che l'altra Potresti non prendere Il cristallo Eh lui Me lo ricordo Bellissimo Oddio Come 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 E dai Cioè Me sono lanciato Da solo Inutilmente Come funziona Allora intanto Io devo scappare Da lui Magari senza Ah sti cosi Cadono e basta Ma cadono tutti? Buono Buono Risalgono Cati Cati tu Cati tu Bastardo Non è caduto No Mi servono gli altri Mi servono gli altri Madonna Che ho evitato Vieni qua Vieni qua Ciao stronzetta Ragazzi sale Comunque ha fatto benissimo Infatti vi ricordo Che anche all'epoca Sulla playstation 1 Era uno dei miei personaggi Preferiti Su crash Team racing E anche su altri Giochi Sempre legati A crash Ovviamente Vieni qua Bastio Vola Vola Ok a quanto pare Anche quando lui Cade Cadono altri Dischi di questi Quindi devo stare Tanto attento Cati 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 Buono No 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 Ok Dovrei avercela fatta Sì È andato No Addio amico Probabilmente è perché Li affrontavo da piccolo E da piccolo Giustamente La difficoltà Nei giochi La potresti sentire Molto più alta Di quello che effettivamente è Perché comunque i livelli Sono belli Forse a difficoltà Si poteva fare qualcosa in più Però non è comunque Male questo gioco Bellissimo E mentre crash Aspetta di salire o scendere E noi andremo sopra crash Sì sì Bravo su Io ragazzi vi ricordo che crash La sto portando come serie Tra le serie Infatti È appena finita la serie Di metro 2033 Serie bellissima Perché quel gioco davvero È molto interessante In alcuni momenti Per alcune vicende Che accadono nel mondo Tu dici oddio Ma sta situazione Potrebbe anche non essere Proprio Pura immaginazione Un'altra serie Che devo ancora completare È ovviamente Quella di Dragon Ball Quindi Quindi Adesso vedo un attimo Se portarla Entro Questo mese In più vorrei portare Anche i DLC Però i DLC Sono anche un po' Particolari Perché ti aggiungono qualcosa Per giocare E di storia effettiva Ma c'è poco Ma almeno per questo video Ragazzi È tutto Quindi io Vi ringrazio per essere State qui con me Vi ricordo ovviamente Che ci sono tante altre serie Sul canale Ovviamente tante Quelle che sono riuscito a portare Però magari nelle playlist Potete trovare qualcosa Che vi interessa E dategli un'occhiata Se volete Se crash continua così Collassa Quindi Ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 ciao